Il concetto di «filter bubble» si riferisce all'isolamento intellettuale che si verifica a causa dei sistemi algoritmici che filtrano le informazioni in base alle preferenze e alle azioni degli utenti online. Questo concetto è stato teorizzato per la prima volta nel 2010 da Eli Pariser, un attivista della rete. Le grandi piattaforme digitali utilizzano algoritmi per personalizzare le informazioni fornite agli utenti, creando così un'esperienza web unica per ognuno, che riflette gusti. opinioni e interessi individuali. Questo fenomeno è stato descritto come la creazione di diverse versioni del web, ognuna corrispondente alle preferenze degli utenti. Il concetto di bolle filtrate non è nuovo e può essere associato alle «camere dell'eco», che si riferivano originariamente ai media tradizionali come televisione e giornali. Tuttavia, mentre in passato le preferenze politiche e ideologiche determinavano le comunità di utenti intorno ai media tradizionali, oggi le filter bubble sono generate in modo meno evidente tramite algoritmi digitali. Le filter bubble sono il risultato di varie attività online, come il tracciamento dei cookie e dei dati di navigazione sui siti web e l'uso di algoritmi sui social media per personalizzare i contenuti. Pariser ha delineato tre fasi attraverso le quali si forma una filter bubble, identificare gli interessi degli utenti, offrire contenuti adatti e plasmare l'identità mediatica dell'utente. Esperimenti hanno dimostrato l'esistenza di filter bubble, come nel caso di ricerche su Google che restituivano risultati diversi in base alle preferenze degli utenti. Tuttavia, è stata evidenziata anche la tendenza degli utenti a interagire online con individui che condividono le stesse opinioni, contribuendo così all'isolamento ideologico. Gli effetti indesiderati delle filter bubble includono la limitazione delle prospettive e la riduzione della qualità dell'informazione disponibile, il che può portare all'estremizzazione delle opinioni politiche.